Ciao a tutti, volevo augurarvi appena un pelino in anticipo a tutti voi che siete super tecnicamente fantastici un buon, ottimo, anzi ferragosto, passatelo bene, divertitevi, mare, montagna, casa vostra, piscina, grigliate, insomma fate un sereno ferragosto anche tecnologico, non sarà purtroppo un ferragosto normale, sarà un ferragosto di riflessione, perché io volevo poi sentitamente mandare un abbraccio forte e un sentito abbraccio appunto a tutte le persone coinvolte in quella che è la tragedia del Ponte di Genova, quando succedono queste cose non c'è niente da aggiungere, non ci sono parole che possono essere risolutrice a una tragedia del genere, l'unica cosa è che sono cose che fanno riflettere, fanno veramente riflettere. Ciao a tutti, ciao, grazie.